ciao marco ciao grazie alla prossima la prossima perché se non c'è bisogno io faccia lei siamo in tre siamo in cinque se c'è karim cosa c'è quello lì io ci sono allora intanto dovrei ringraziare il signor kirou rufox il signor gava 95 e signor z colo tech questa è casa mia e anche signor sentiera sproag prendete per il culo sproag ma si dice guttural sproag bello comunque grazie avete visto che siamo partiti puntuali perché l'ho fatta partire in realtà in anticipo per quello mica peraltro ma grazie come si fa di solito stai tranquillo stai tranquillo adesso mi dici perfino che ti ha dato fastidio adesso me lo dici cosa c'hai dimmi tu cosa c'hai cosa cosa vuole xenofobo che mi è dato dello xenomorfo e vabbè certo perché ieri sera non c'era live e ricordo che ieri era sabato bravo grazie mille la demo dei nuovi operatori io non ho visto niente perché stavo montando conan io lo vedete domani con cosa sono roba figa escono il 7 tra l'altro quindi quando è il 7 7 per il 7 esce io io ce l'ho perché il pass della stagione autunno inverno ha belle scarpe complimenti infatti c'è l'operatore che le guarda e niente sembrava ficcante la faccenda adesso giochiamo intanto ci prendiamo bene facciamo su punti così mi posso comprare tante belle skin come fanno i bambini che giocano io non ho capito quella cosa lì cosa vuol dire che metteranno dentro tipo i mirini dei personaggi i mirini le maschere ma poi sono shoppabili quelle robe lì però c'è scritto che le ottieni con il tempo giocando tempo quindi ma le casse o quelle cose credo che siano anche shoppabili è perché se sono come over o ci sono proprio shoppabili sì sì ma credo che siano anche shoppabili però almeno hanno avuto la decenza di sistemare il gioco prima di mettere le casse spero non è come overwatch in base a livello è passato un anno prima più che altro eh sì di più però ci sono dei giochi guarda arcar che in acceso anticipato ha fatto uscire un dlc non è come overwatch in base al livello visto che c'è il livello di ogni volta che eh io adesso noi che abbiamo fatto tutto spero che sia retroattivo visto che sono già 60 ammazzi iniziamo con 60 casse minchia che palle non lo voglio di aprirle e chi è eh no magari ci saranno i livelli di prestigio dopo il se quanto è il livello massimo? non c'è il livello massimo ho visto gente al 190 molto all'accordo allora siamo fottuti no quello è il prestigio i livelli di prestigio sono tipo il livello massimo è come i livelli luce di destiny che tu sei a livello 60 qui vai avanti ah merda qui vai avanti almeno puoi modificare i kit armi prima di iniziare la partita anche dopo aver selezionato tutto per tro oh grazie a dio oh il futuro grazie padre Pio grazie mille cosa? perché c'ha le mani bucate? non è poverino non c'ha zombie padre Pio ha le mani bucate no perché gli spende al massimo non sa i termini non sa era per quello aspetta ma devo fare delle miss era tutto collegato era tutto collegato esatto tra le round vuoi ci giocatore con il GSG poi da domani vorrei iniziare Ghostbusters il videogames oh cristo santo perché? ma il primo? come il primo? uno ce n'è lì no ce n'è riuscito un altro è un po' vecchiotto no c'è sì è vera 360 play 3 oh ve l'ho chiesto prima avete detto sì che va bene adesso rimando no ho detto solo io io non c'ero c'è ti ho risposto solo io e ti ho anche detto non è vero non è vero non è vero fai quello che vuoi però non è vero c'era un po' di onda ma ci sono stato limitato anche su grazie Tile qualcuno imita? devo passare che ti vuole per schifo non è quel buco tutto il buco cosa c'hai? c'è stato wild senza rovinare tutto ma veramente lo devo starlo subito con l'imbecille mi avete invitato? yep eccomi mi ricordo quali erano le FBI mi dà fastidio che non fai le sfide giornaliere e pensa un po' pensa non ci giochiamo così tanto ma le sfide giornaliere però sono comode anzi adesso mi metto anche a scioppare guarda le maschere però in generale sono comode per fare i punti appunto però sei intratto uoro eh sì è perché ha invitato l'Ezar quindi non è che mi cambia la vita l'ha invitato l'Ezar? l'ha invitato l'Ezar io ho giocato poco l'Ezar e ho 20.000 punti di nuovo? eh sì qui anche qui anche perché 25.000 per un operatore è troppo ma non è Ghostbusters del Mega Drive è quello di giocarmi ma io ne spogno a 40.000 sì ma è quello di l'Ezar no 40.000 ne spogno a farli quanto sei messo a farli? un mesetto è di più anche no 40.000 ma ci sei messo un mese eh sì facendo anche solo le daily le daily le settimanali va bene ma tipo adesso faccio aspetta che non ho stoppato il tuttaroolo no che start stop nessuno acchiappa Caveira o lo prendo io? io prendo nessuno l'ha usato l'altro Caveira a me piace mi trovo bene nei pro nessuno l'ha usato nei pro i pro gamer non la usano mai perchè? come mai? perchè fanno spawn kills no perchè non serve un cazzo non serve un cazzo che no ma in realtà quello che fa Caveira lo puoi fare con qualsiasi altro personaggio sì esatto a parte il passo felpato che funziona un po' così un po' beh ma lei interroga gli dice incastro in terra e non faccio mai in tempo cioè se sparo ci arriva sempre qualcun altro quindi faccio più ucciderlo anche perchè nelle competitive quando uno cade a terra e altri sanno già dov'è se io dicono gli altri guarda sono morto qua e quindi in due secondi trovano Caveira se si interroga si va bene per le casual ma non per le competitive il fatto è che poi te fanno anche le combo fatte bene diciamo usano i pesanti giusti insieme sono cinque Caveira cinque Caveira per fare una live in upload non è che ci voglia tanto dipende da cosa vuoi fare in live basta basta un 3 mega in upload basta per fare questo se vuoi fare qualcos'altro puoi anche fare meno fortissimo fai tipo Airstone tu vuoi fare Airstone o League of Legends anche Airstone ti basta la normale 20 mega anche il League of Legends basta pochino i giubbotti metti i giubbotti metti i giubbotti adesso abbiamo le cuffie uguali bene vediamo quanto me ne stanno per dire Airstone c'è gente che lo fa con un nome di upload quindi non è che qualcuno ha sofferto è figo si che Jackal spotta i nemici con le impronte non so se si OP vediamo e dipende a quanto distanza magari tipo 3 secondi solo 3 secondi prima no ogni 10 secondi no ok però tu vedi tutti i passi di sempre eh quello non credo se vuoi mettere di dove è andato se cazzo si ma rimane per sempre la linea arrivo arrivo no mi sono refresh un po' di volte ogni 10 secondi tanto entra se devi entrare hai ragione e gatto hai una paghete la metto al muro la metto io la metto qua se direbbe dietro mmm cazzo qua possono fiozzare occhio questa è casa mia entriela gator grazie è vero che come secondaria hanno entrambi il pompa non possono fiozzare c'è il c'è lo stabile no possono fiozzare lo rischio è pericolo hai capito? al nostro lo rischio è pericolo fiozzare hanno sfondato qui sopra occhio moro sono stato individuato ah si qua li vedo cioè non li posso identificare ma solo che sono non so l'ho preso uno l'ho preso uno non posso vederli però che dolore sono lì dentro c'è un mio caricatore gatto qui sono gatto? no era twitch ok però da qui è entrata poi non so aspetta c'è il drone sento ancora fuori occhio eh occhio qui è spirito dove l'ho taggato qui hanno sfondato lì? merda no però però stanno facendo è esploso qualcosa qui intorno? ma non so no merda aspetta l'iezzar noo da dove? io salto un po' qua e rientra devi darmi un sopra eh dove c'è la scala aspetta eeeh cazzo cazzo l'ho ucciso l'ho ucciso uno rispondo a uno gatto eh si un attimo mi curo perché qua ho colpito ho colpito i piedi c'è più di uno che sta dicendo che ogni tanto laghi c'è con cali di frame cali di frame e merda che male eh mi hanno beccato l'hanno scritta in due l'hanno scritta perchè ho tabbato forse è probabile si può essere per non si riprenda ho giocato bene no ma allora no è che tu se tabbi proprio ti si ferma il gioco quindi no infatti mi sa che era quello no ma ho tabbato all'inizio sono morto come sei morto? eh non lo so mi sono girato un attimo come? io non ho visto la mia chicca ah tu la finestra di merda porcavato non ho appena guardato eh e vabbè mi chiara dove? che casino è sta visuale porca troia la finestra comunque è buggata non è possibile perchè sparato adesso non ho robe cosa vuol dire scuso allora facciate normale tanto è giocati che vince adesso è tutto ok è tornato alla normalità allora magari era un po' prima si no era allora non erano cali di frame era semplicemente quando ha tabbato si è frizzato al gioco in live eh ma l'ho fatto all'inizio proprio eh allora magari era proletti twitch semplicemente ok comunque dico alla chat guardate termite in faccia e guardate Schwarzenegger che nella locandina dè il sesto giorno è uguale ditemi se non è non è uguale è lui che ci ha ricolorato sopra e l'ha fatto diventare un operatore potrebbe essere è uguale identico ha anche gli stessi occhiali tombi avete già risposto a il nabbo di dog è a scrittura che lui c'ha una 9.70 1.5 e a volte ha proprio il caricamento su Rainbow Six no ma il caricamento in realtà non vuol dire un cazzo può essere la connessione può essere la connessione no può essere comunque va a caso secondo me il caricamento di Rainbow Six ma merda c'è il jammer ma eh dove sono Moro aspetta che l'ha rotto il jammer merda non era vero ma davvero Moro devi darmi aspetta l'ho trovato ok ok ottimo Moro ma sono sotto allora sotto dietro eh sono la metà non proprio sotto sono la metà eh si mezzanino scusa mezzanino ma dai io avanti ma dove sono io sono in cina ho sbagliato che ne vieni con me che tu sfondi e io sparo vai vai tu vuole entrare da qua con me io io non c'è bisogno di quello niente ma no lo sprechi ce ne sono due tu sta mai giallo quello li i cantuccini buoni dove vuoi rompere carino di qua di qua non so se si al caso non deve calarci cosa non si vede grazie al cazzo pronto eh dai vabbè di qua dai un po' più lontani pronto ah si mi ricordo grazie barricchio che c'è la faccia da pirla buonasera gatto buonasera a lei che cazzo siamo cos'è sto posto che cazzo è un bagno che spavento ah sono qua dietro arrivo è lì cazzo guardate il camera bastardi e se lo sopra ti ho ucciso io ma cazzo perchè stavo sparando al lato però l'ho ucciso qui ragazzi e dietro l'identità eh merda gatto che dolore che abbiamo fatto questo qui Eh sì, sono le telecamere di Val Kilmer Eh, ma io da solo che faccio qua? Ah, perfetto Faccio questo Hai spezzato il pubblico a metà, Karimba Che casino fa? C'è gente che dice Karimmenti non ci assomiglia a manco pure sbaglio E invece altri che dicono Hai ragione, è identico Ne ho ucciso uno, però sono a terra Sono a terra, corro No ragazzi, è identico, non so che occhi avete Ma è proprio lui, secondo me hanno preso proprio la foto Oh, ce l'hai fatta Aspetta che forse mi stava seguendo uno Ok, all'esplosione Occio moro, eh Ma scusa, perché è capitato? Ma merda, Karim, se vuoi scondo qua, eh Ah sì, e beh sì, Lianzar, sì Alla grande proprio Vai, spara Oh, l'ho preso? Pronto? Sì, hai ucciso l'ostaggio L'ostaggio Ma cazzo Sei un coglione di me Guarda dove l'ho lanciata Guarda dove l'ho lanciata Ma che precisione, moro, mamma mia Buono, sei a 1815 Ma vaffanculo Thank you San Paolo, complimenti, grazie per rischiare le mie serate Grazie mille a lei Eh ma l'avevo visto, l'ostaggio era in mezzo alla stanza E lui l'ho lanciata nell'angolo posto Un po' è bello grande di Capitano Ma le palle Karim è il traditore Sì, è bello grande Ogni tanto ho cali di frame E io ragazzi non so È ancora È caso proprio in realtà Eh no, è vero, ho l'1% di Non dovrebbe essere sotto mano? Eh, l'1% di cose perse Però non so perché Non ho la mia idea del motivo in realtà Hai steam aperto, gatto? Sì Avessi piuttosto si è in buro Eh, controllo magari da un ruolo No, non è Questa è casa mia Entra Un'appo, grazie mille Non lo so Dovete tenere lo stagio al sicuro Che pal, di modo Dai, poi non vincere Vabbè, finita questa magari Provo a uscire dal gioco Stavamo per sfondare gli eliezi Ti ho avuto la parola Che pare, è robottito Ho sentito, ero contento per morire Non ne ho uccisi due Eh beh E' vero, stagio E' rimposato anche i muri Eh, tranquillo però Muro riportato Ma scusa, lezzar Non l'hai messo Come no? Il muro riportato qui Sì, certo Ah, ma solo potrebbe evutare No, tu non lo vedi Da me non c'è Sì che c'è Tranquillo Ma qua completamente in quadro La mia mente è in quadro Sono i... Come mai scatta Che fastidio Andava fino a ieri Eh, come l'ho oggi Porca troia Ma te scattava Eh vabbè ma tu avevi un gioco diverso Porca troia Che ne so Un gioco mai fatto prima Io ho sempre fatto E in realtà io sono il medico Quindi Ditti Aspetta, no, lascia aperto qua Lascia aperto lì Ma non che palle Sono una merda Non c'è cosa Porca troia 20 vite ma tonto Qui c'è una parete da mettere Anche lì Questa è casa mia Entra Va bene Ma li vedo Stanno arrivando Dalla porta davanti Dalla porta qua davanti Eh Qua Stanno arrivando Va bene Eh Alla spedare L'ho scioglietto Eh Ti ha ucciso? Sì Ok L'ho ucciso questo qui Ma guarda te Aspetta Aspetta Gatto Aspetta Te l'ho salto Sbagliato Porca troia Cosa ha fatto Porca troia Amoro Va bene Va bene Eh va bene Non vedo un cazzo Ma sì che va bene Lo so Sono morto Sono sotto Cazzo Che spavento Sotto o sopra? Sotto Però sta salendo Non sto piano Non sono sotto Eh infatti Eh quello che mi ha ucciso Era sotto Eh no Ma puttana Cioè li ho sparato No dai Ah sì hai ragione Sì hai ragione Ero io di sopra Adesso voglio vedere Vabbè Fantozzi Eh stanno bucando Eh lo so Te l'ho taggato eh Eh ho capito Però farmi un i7 Che due palle Poi eccessivo Non è serata Per l'ostaggio Direi di no Eh sì Oh 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 Sta sparando l'ostaggio Ogni tanto mi sto riguardando La live Bravo e split Complimenti Ma cretino È indistruttibile quella È ancora uno sparato Perché Lo si Ma dai L'ho girato Moro ferma l'ostaggio Non vedo un cazzo Oddio Eh non vedevo C'era tutto lì C'era un gabbato Non l'ho presa Eh porca troia Mi sembrava Moro Mi vedeva benissimo No ma effettivamente Era impossibile così Moro Bene bene Dai che partita È andata bella Che bei punteggi Sono contello Dragonheart Ciao gatto Le mie prima donazione So che Non è molto ma ci tenevo Un saluto a Youtube e di Turbo Se siete i migliori Buon game Grazie mille No gatti Scusami È colpa di Marche Moro È vero Mi hanno traviato Mi ha lasciato un po' di voglia di giocarci Wildlands A me sì Io voglio giocarci Però la paura è tanta Se il gioco Oggi abbiamo scoperto Che se il gioco Rimane nelle condizioni In cui è Per quanto riguarda La fisica L'intelligenza artificiale I bug È merda E diventa Sì Però sai cos'è Voglio coprire il resto E anche Ma anche le missioni Sono state divertenti Anche il fatto che Abbiamo battuto i boss Cioè i boss Cioè i boss erano una merda Sì il boss è stato La difficoltà La difficoltà è nulla Veramente È veramente zero Sì Era veramente No vabbè Ma al di là Della difficoltà Io ho paura Che se il gioco Sarà come la beta Sarà una rottura Di coglioni Infinita No vabbè Se c'è solo Quella roba lì Da fare Eh ma in realtà È che c'è tutto da fare Dipende da te Come lo vuoi affrontare No no Ma tutto da fare Sì Però Se è sempre Vai lì Ammazza quello Vai lì E interroga quello Sempre con Con la stessa modalità Allora più che altro Inizia a diventare Un po' ridondante Le sparatori in auto Non sono così belle Come pensavamo La fisica delle auto Rovina tutto Rovina tutto Le macchine Si sfiorano Così fa Puff Distrutta la macchina Cioè È tutta ammaccata Tra l'altro L'ammaccatura È fatta benissimo È tutta bellissima Però non ha senso Perché se io mi appoggio Con una macchina In un'altra macchina Non mi si sfonda I paraurti Figha No me lo aspettavo Leggermente più simulativo Eh sì E non è Però Me lo sentivo più Rainbow Six Anch'io Non così tanto Però non così Più Rainbow Six E se entrò Tattico Non va bene Sì 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 Beh c'ha ragione Mostia C'è Caveira Una recluta 10 secondi Ciao C'è Vantiria C'è lo Jäger Meister Io ho visto Ho visto anche Caveira Non te l'ha messa Ah cazzo Aspetta aspetta Che continuo a guardare Io un po' Occhio che le spawn Chi c'è la spawn kill Ho visto Di Eh Thank you Gnanni Ciao gattone Ti seguo sempre meno Per lavoro Ma ogni volta che riesco È sempre una gioia infinita Salutami la super crev Di belle persone Con cui stai giocando Va bene Grazie mille Vi saluta Gnanni Grazie Sponky Sponky Eh va bene Però porca torna Da dietro l'albero Mi ha preso Però che fastidio Che non ci si può arrampicare Da nessuna Gli ho spaccato la finestra Gli ho spaccato la faccia Bravissimo Eh non lo vedo mica Che due palle Però sta cosa Mi fa veramente cagare Una delle cose Di Rainbow Six Veramente brutta Di tutti i giochi In generale Beh è un gioco Con una dinamica La Rainbow Six Io non me lo ricordo Quindi No ma In tutti i giochi Anche Sparato tutta arena Sono Lo spawn kill È una rottura di coglioni Mi metto il fiuzzo Che nemmi copri Vado su Eh occhio Che sopra Perché era quello Che faceva Sponky Il è dietro Caveira Ti ha ucciso No Ok C'è Caveira Non so se mi abbia sparato Lei Perché Beh si Ti ha sparato lei L'ho colpita Ma non è morta Come stai tenendo Il fucile Può cogliedere Palle però Ste partite così Così Con lo spawn kill Sì Porca troia però Merda Aiuto Ma da dove Da dove Da dove Da dove Da dietro di me No dai L'ho presa Ma sì Ma quanti cazzi Gli ho dovuto sparare Mi sta interrogando Ragazzi Mi sta interrogando Ma merda È finita Porca Merda L'ho ucciso al pelo Lezzar manchi solo All Ragazzi Se io chiedo il gioco E rientro Rientro da voi No No L'avevo buttato a terra Eh però Ma basta Provo a bassare un po' La grafica Ma no Ma è andato da dio Fino adesso Adesso Ma non ti ho ucciso lui Lezzar Adesso ti va di me Ma pensate No no Ma il gioco mi gira benissimo È la live il problema No no Non credo sia quello Cioè Non credo che lo risolva Però ti droppa frame Hai detto E in live hanno detto Eh infatti Ho l'1 Ma te ti contatore C'hai i frame droppati Quanti ne hai Dimmi frame Eh aspetta che Li devo mettere Devi mettere Non ci mette il contatore Di frame in game No il frame Ma no Ma non sono Quei frame lì Deficienti Non ho capito allora Scusami Ma leggi Il 2% Il 2% No a fianco c'è un numero Ah minchia È un numero Pottissimo Eh Mi ricordo Sei quella dianda che c'è la fatica 1272 Ma non è così alto Dragonheart Grazie Ogni tanto vuol dire che si stoppa per una frazione di secondo Eh sì Comunque è una percentuale Il 2% è niente Eh Ho capito È da 24 minuti che fai la live Niente Devo andare a chiudere qua sopra Eh in teoria non sto facendo un cazzo Con la connessione Eh non so Due palle Siete sicuri che sia quello? Non necessariamente Di solito è quello Di solito Se ti scatta per il computer Non ti dice il calibre Esatto In teoria eh Però non sono sicurissimo Poi cosa urla? Date le telecamere Ragazzi su Eh ok che non dà troppo fastidio Ma mi dà fastidio L'idea Non mi dà fastidio troppo Ah buono Puttana Buono dai Eh sì E le mie granate non fanno mai un cazzo No ma adesso voglio sapere dove è arrivata È passata dentro la cosa del robottino Minchia Sono bravo in questo Ma dai La vacca Oh Occioli esperti Sono qua Sì sono qua Per uno No no Minchia esperti Come se è andato giù Brutto Non posso alzarmi qui Vedo un cazzo nessuno Non vedo niente qui io Ne sono due lì fuori Stanno sfondando Che ne qui sotto Occio eh Ok uno l'ho ucciso Occio moro E li ve li sto sfondando Sono lì fuori Eh sì Aspetta Ma puttana Che cazzo sta succedendo Eh ma te lo stiamo dicendo Moro c'è Merda qualcuno ha sfondato Ok l'ho ucciso Perché gli volevo lanciare la granata a gun Stanno tutti lì fuori comunque Che ansia L'ho colpito Bastardo Dovevo aspettare che entrasse Merda No merda Eh sì Non l'ho preso Ho visto il nome Ma non l'ho preso Sono uccisi il cello Guarda che Dove cazzo mi sta sparando Pezzo di merda Ho letto che una politica Delle nostre forze armate Non apparire in nessun tipo di videogame Ah può essere No No Ma dai era lì No non ci credo Quella scena di che vediamo in In Game Sprout No ti prego eh Guarda è la scena di Game Sprout Più o meno Più o meno Più o meno E ti è sparso nel culo poi Pensa te che sfiga Perché io lo sapevo che era lì No dai Game Sprout No eh Game Sprout Prossimamente Ma il gioco non la connessione Amiche vincenti Duruduru Ormai è troppo tardi Cazzo Lascia così No no infatti Al massimo finita questa Se ci ammazzano Esco e rientro dal gioco Un attimo Però non credo Sistemi Vabbè ma Il 2% E niente Vuol dire che È passato Dall'1 al 2 Eh grazie al cazzo Perché sta aumentando È il 2% Del totale Non è che cala È il 2% Del totale Vado a vedere su Sotto nel garage Ma che sfiga eh Dove sento sparare fortissimo Bravissimo Attenzione Il drone alleato Ha trovato una bomba Attenzione Il drone alleato Ha trovato una bomba Il drogato Ha trovato una tromba Hanno anche Valkyrie Tanti punti ho fatto Disinnescatore Di nuovo nostro Ok andiamo da dove erano loro Salumi Ma no 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 Eh dai che palle Oh ma dai E per forza ci sono solo 3 punti di spawn In sto gioco Per forza ci uccidono Oh bravo Lied Si ma che tu è marroni Però Mi ha toltuto Perché non sono capaci di farlo E poi vedi che muoce Eh ho capito Mi ha toltuto un sacco di vita Adesso il prossimo che mi vede Mi ammazza Qualcuno entra con me qua Entro con te gatto Ah c'è il jagger lì Porca vacca Non esploser Aspetta Eh si deve termazze direbbe Aspetta No ci sono io Sono io Ah c'è uno che punta lì Immaginavo Se dietro di meccanim Eh Circa No no È che dobbiamo scendere giù Lo so lo so Ci sono le scale qui Come no E tu hai detto C'è il jagger C'è Ah c'è il jagger Che cazzo è esploso Eh sono a terra Merda l'iezere Siamo lontani Gatto devi andare tu Eh no Sono molto distante Non credo di Gatto fai il giro Dalla Esterno Sono proprio all'interno Sperando che non arrivi nessuno Aspetta Aspetta Facciamo così Resisti Ah puttana Ho ucciso Ah me l'ha L'ultimo nemico Ho ucciso Ho ucciso Ho ucciso uno No sono più di uno Però eh Aspetta un attimo No uno è rimasto È uno Sì è rimasto solo uno Vai Giazzar vai 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 Ah ok si è ucciso quello lì È rimasta una valkyria Sarà dentro Sarà Qua non c'è nessuno Aspetta facciamo così È lì È lì È lì L'hai visto È qui in questa stanza In quale stanza Porca puttana È qui dentro Liezar qui Qui dietro Vabbè Vabbè figa Ma coglioni sono dentro Il materiale di jazer Sono bravissimo Aspetta che metto Il disine scatrone È lì? No È esposto il bastardo Ragazzi Figa Non merite Iniziare a domandare Di The Forest Come Con Summer Car Ho detto che lo finiamo In live The Forest Basta C'è bisogno di ricordarlo Ad ogni live Lasciola entrare Lasciola entrare Cazzo Ma l'ho colpito in pieno E vabbè porca troia No l'ho colpito in pieno Ma tutti qua li stanno ammazzando Lui Io l'ho colpito in pieno Era in una stanza Veramente stronza Con che mirino? È l'ACOG No ma è La parte esterna Era Non l'ho mai vista Quella lì Eh lo so che mi era davanti L'avevo pure vista Veramente Fammi pensare Fammi Chi mi prendo Sempre Non è vero Prendo Capocan E qui devo fare la mission Capocan è usato da zero persone Sulle competitive invece Eh per forza E vedo che ogni tanto C'è qualche calo Nella connessione Qui Moro Capocan Erano i due boss Che abbiamo battuto oggi Di Di Wildlands Non l'ho capito Eh non hai visto Che avevano il mitraglione All'angolo Occhio qui eh Che mappa Ah giubbotti Mi era passata davanti Valkyria Quando sono entrato Figa non l'ho vista No allora no Ah merda Ma è comunque Una stonzzata Chiedere The Forest In chat Ho detto in live Che lo farà Finiremo in live Basta Non c'è bisogno Di chiederlo più Ah via Dove sono i giubbotti Proprio sulla porta Qui 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 Siamo a 10 secondi Un giubbottismo Aspetta Ah mi hanno fatto notare Che quello che ci ha chiuso tutti Sì Al 2002 Nel Nel nome E però in realtà sono in due davvero Davide 2002 E Jacob 2002 Quindi sono Hanno 14 anni 14 anni Non potrebbe neanche Ci potrebbe stare Non potremmo neanche giocare Questo gioco credo Perché E voi M18 Ho almeno 16 Hanno rotto qui Ti pareva Tento lì Eh sì Non è un bel costo Da dove? Ahia Stai fermo? Eh niente Dove? No era da sinistra No era da lì No ero dietro Dopo ero dietro Eh ma sotto Aspetta aspetta Sì ho sentito rompere Hanno aperto qui Eh sì da sinistra Eh l'ho colpito un po' Dove sei carino? Ho per la sinistra Ho visto Puttana Eva M'hanno visto Merda Che paura Non ce l'ha funzionato Lizard devi venire un po' più in qua Io ti curo ma Sbucami qui Riesci? Eh no Perché c'è proprio uno che guarda lì Anch'io sono del 2002 Sono quasi forte come vuoi Dice mastrota Ne ho preso uno Stai fermo che in teoria ti prendo Mastrota 69 Veramente Aspetta che ti curo ancora Mica mastrota 69 Si vede che sei del 2002 Porca puttana No 70 di vita Vabbè Granata Ma dai No Lizard Eh oh Mi lasciano le granate Eccoli Ah ok Ve li ho spottati eh Ok Ah Rainbow è inventato Minore di 18 Bene Beh c'è sangue Eh sì infatti Tu hai giochi esistenti Te corressi verso di loro Velocissimo Ma non lo vedo Muori perché sono due Non lo vedo A meno che non li becchi da dietro Eh sono da dietro Solo che sono a 32 metri Guarda dalla finestra Dalla finestra Dalla finestra Quella lì Nalba Aspetta Aspetta Vai in fica Da qui Merda Cosa devo fare da qui Moro Ci salgo Eh sali Guarda lì Dove Non vedo un cazzo Eh che cazzo Ma vaffanculo Di vera di merda Beh però Almeno l'hai distratto Uno Dov'è uno Taggatemelo Sempre lì Ma dai No porca puttana Eh vabbè ma io non posso fare niente Ma gli ho sparato Ma quello eh Se dovessimo seguire i peggi Nessuno comprerebbe i giochi No no Li comprerebbe le persone giuste Sarebbe giusto Karim sta riannando lì alla finestra eh È lì Sempre lì No no Stai tranquill Che ansia Bastardo È da Di là Destra È uscito Karim è uscito Da finestra Cazzo No l'hai No era Eh no no Non l'hai preso Non l'ho preso neanche una Voltyper Va bene Che gioco del cazzo No no Karim non l'hai proprio puntato Dallo nostro visuale Guarda No guarda che gli ho No no Eh non l'hai neanche puntato No ma vaffanculo allora Eh proprio per quello Minchia se gli ho Gli ho sparato poi Senza mirare perché stavo scavalcando Eh io non vedo un cazzo Puntana Eva Il Peggy non è un divieto No però dopo se tua mamma rompe i coglioni Perché tu giochi ai giochi della morte E che schifo i videogiochi Che schifo la gente Ma chi lo sa mia mamma Secondo te i genitori sanno qualcosa No ma le associazioni dei genitori che si lamentano dei videogiochi Perché Regalano i figli quelle cose lì Appunto Ma chi Ma scusa Secondo te un ragazzo di 14 anni va a comprarlo col padre Il gioco Ma quando mai Eh quello lì è un problema Ma scusa Tu andavi a 14 anni con tuo padre A comprare i giochi Aspetti mi dava i soldi Se ho un figlio E mi chiede Papà andiamo a comprare un videogiochi Ma vaffanculo facci da solo Di caso per andare a comprare i giochi Ma poi Poi magari noi siamo un caso a parte Ma se dicevo a mio padre a 14 anni Vieni a comprare i giochi Ma che cazzo ne sa lui di Peggy Di cose Poi pensa Pensa se dovesse uno fare Il padre che dice Ah scusi Questo va bene per mio figlio Ma doi No vabbè però Ti insultano Ti mettono la faccia nel bate C'è scritto un 18 Un 18 più in nero e rosso Dice figa Magari non è il caso Il problema non si pone in partenza Perché nessun genitore Di 14 Infatti infatti Ma appunto l'errore è lì E l'errore è del negoziante Che glielo vende No non è quello Ma lo facevamo anche noi Chi è mai venuto con noi Ma io ho giocato GTA San Andreas Ma no ma infatti Io sto dicendo Che è la gente Che si lamenta Però L'associazione Mamme Unite Che si lamentano Tanto Però alla fine La colpa non è di nessuno Anche perché Quello che volevo dire Che su un avvertimento È Tecnicamente una legge O altro Te lo fanno diventare legge Poi sarà diverso Eh non vende I giochi non vendono più Eh no infatti O faremo Faranno tutti Faranno tutti i giochi Come il Meta Slug Con l'acqua Contatti una da prima di 12 anni Se vuoi comprare un giorno Devi chiedere sui genitori comunque Perché Non è del tutto detto E dove li prende E Natale A compleanno All'onomasti All'animo Che ne so Cioè Io Io non prendevo soldi Da nessuna parte Non ho mai ricevuto soldi Da nessuna parte Quando ero Però Tutti i miei amici Il centello a Natale Il centello al compleanno Scusate se sono un pelino distratto Ma Purtroppo sta cosa degli scatti Mi ha un attimo Messo il pallino E sto guardando continuamente All'altro schermo Ok Qualcuno è senza giubbino Io l'ho preso Io io Comunque è entrato Un robottino qui dentro Non so dove Quello vuole uscire da qua Vai chiudi io Aspetta 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 Non chiudere Comunque per rispondere a prima Ho curato due volte gli Ezra E sono morto da stronzo Però in mezzo Ho fatto anche una kill Hanno sfondato E' morto uno di loro Mancherebbe una parte qua E' morto uno di loro D'avanti Dove mai No vabbè non ho niente Ah c'è montagna lì Ma puttana C'ho 4 di vita E' morto uno di loro E' morto uno di loro Cambio caricatore Che è successo Stai molto Non crede che poi Vado alla carica Eh perché sei un deficiente Allora Non andare Moro C'è uno è morto E uno ha quittato Va bene Mi do in posizione Ma stai facendo i coglioni di vita Sono gli smoke Sono gli deficienti Ma hanno forato No 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 E Moro come mai Ah eccolo qua Eh ma Eh rarda Potevo interrogarlo Mi dimentico sempre Ma non mi uscire da Moro Devo entrare comunque Le mie piccole tossine Sono in posizione Merda c'è quello con lo scudo Dove gli Ezra E' di su Oh si Karim se vuoi Non ti posso aiutare Attenzione Ah lo vedo lo vedo E' lì dentro C'è la fumogena Lo vedo lo vedo Dai sopra Ah c'è Mi sparo da sopra Eccolo Vabbè ci ho pensato E' un deficiente Abbastanto Ce ne manca uno Lo be' Non lo vedo io Non lo sei Eccolo Ho sentito sfondare Dove' Taga E' da merda E' sotto Non nella nostra parte N'altra parte Alliazzare di qua Vabbè è chiuso comunque Eh due volte poi è chiuso Quindi E' là Moriamo tutti Ma coglioni Ma pensa per te scusa Cosa succede Che sparo da sopra E' un fanculo C'è l'ostaggio Si Volevi fuzzare Per un attimo Per un attimo Lo sto per selezionare Anch'io Intermittiamo Se uno ha la merda nel cervello Non è che abbia 12 anni O 40 Ma si è vero Era per dire Che ci sono le mamme Ma basta Però i 12 anni Sicuro che hanno la merda nel cervello I 40 anni E' già meno Iniziano ad avere la merda nel cervello Per la vecchiaia I 40 anni Si è messi male Eh purtroppo L'evoluzione della specie Cario Ah va bene Ma il problema è sempre Di chi si lamenta Ripeto per il Peggy Perché sono le mamme Che dicono Preoccupate Che schifo I nostri figli Ammazzano le genti Ma in realtà il discorso Non è partito da quello Il discorso è dal partito Vogliamo giocare contro i trediceni Sono di sopra No no vabbè Ma che siano così bravi Ripeto Ci sta benissimo Figa La loro età Forza andrà a far solo quello Nella vita Appunto A parte masturbarsi Masturbarsi e fare quello Infatti facciamo la stessa cosa Lui sono sopra Il masturbo Facendo Io li faccio masturbare D'amore Ma faccio passare qua Ho taggato un sacco di genere Ho taggato gli occhiali di Termites Si potrebbe entrare Hai presente la finestra Quella con le veneziane indistruttibili E' cecchino La merda Ok allo spoglio Ne procede Che palle Ah mamma mia Non è quella la casa gatto È dall'altra parte È questa qui la casa Sono un po' distratto Confermo Porca troia E' spero che sono di sopra comunque Sono qua sono Faccio gire dai Almeno prima ho visto qualcuno lì Chi fu? Oioi Che succede? Che succede? Sono io Allora E' perché ho visto che era lì Aspetta che ci lancio il drone Occhi di me Occhio Il drone Dario Ci lancio Nemico rilevato all'esterno Esprit è tuo eh Dai qua Uccidilo Esprit Bravo L'ho colpito anch'io L'ho colpito L'ho colpito È un deficiente questo po' Non lo sa cosa stava facendo Esprit vieni da me ti sfondo la finestra Ha sbagliato a casa come me Tranquillo questo Ho trovato l'ortaggio Ce ne sono un po' l'idea L'ho sponata via la finestra Sono Ashe Vieni vieni No Cosa è successo? Mi ha individuato Cosa? Non c'è niente Non c'è niente Mi ha buttato una terra Hai crashato Karim in gioco Merda no Per un pelo Mi stava crashando il gioco Allora Giù un po' la finestra E'sprit Vai 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 Occhio eh E niente Mi Mi continuo ad andare sul desktop Il gioco Che cazzo succede? Stai da bando? E' rimasto uno? Aia Dov'è? Ah ma è qua Ma dove cazzo era? Ma tu eri dentro Scusa Sì ero dentro Non lo vedevo Ah dietro il muretto di ferro Eh le sca... Sì vabbè Ma che posizione è Quello di merda Non l'avevo mica visto che era qua Era lì dietro Pensa te che casino Vabbè Mica è esprit Sì Ma va bene Guarda vabbè Ma come cazzo è possibile Mi ha prendito una scarpa Comunque mi faceva una cosa strana Mi ritornava al desktop Con il suono di Windows 10 Quello pululing Eh c'era una cosa che ti faccio Va bene dai Modifica o altro Guarda quanti punti c'ho 5-0 Sono troppo forti Windows 10 potrà formattare vero? Sì Cosa? Ovviamente su Windows 10 C'è il tastino formatta Ovviamente Un tasto enorme rosso Sulla scrivania che premo Girando due chiavi insieme Ti scelgo A questo punto penso mi abbiano cistinato i 10 euro Cosa vuol dire? Per il paio ancora? Cistinato i 10 euro? Cazzo controllo l'altra casa non c'è mai Ma ancora nel garage Ma che palle No è bello il garage Tu sei un deficiente che cazzo fai? Vieni a coprire Aspetta copri alla fine Sì 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 Dove la metto la parete qua? Ma non serve in realtà Vabbè io aspetta Moro io aspetto qua per Eh no Ce la metto io poi Ah ce la metti tu? Va bene Metto di là allora Robottini arrivano Robottini 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 Niente Ci hanno compromessi In questa mappa sembra sempre di giocare a Mammo perso l'aero Quando in trappoli Aspetta Ma che palle Cosa vuoi fare te? Ma lo voglio fare Deve mettere la telecamera Eh però levati L'hai messo? No no perché è rosso Moro è un altro senza giobbolo Lo so lo so Hanno sfondato da me forse Lizzo aspetta sfondo io No uno però Posso chiudermi qui dentro? Non posso Oh li ho sentiti con rampino qui fuori Aspetta C'è quello con lo scudo C'è quello con lo scudo lì Avveni in treno davanti a me Un ragazzino con la live accesa Fa uno strano effetto Non so se spormi Ho fatto di nulla Qua c'è uno Eh quello con lo scudo Non riesco a ucciderlo mai Merda È entrato Moro? Che non l'ho ucciso Quello Eh Com'è possibile? Con un colpo? Uno Un colpo Niente sono tutti fortissimi Mi dite Sto parlando a casissimo Perfetto Quello con lo scudo Me lo taggo Me lo taggo sopra Eh Sopra di te Ah no no Più sopra di te ancora Ah più sopra No giusto Non sopra di me Eh occhio la scala eh Sta arrivando C'è un buco lì però Porr***o Ok Dove sto qua un attimo Oltre Moro Che gli dovesse Pompere È caduto Qualcuno è caduto e morto C'è un robotino qua C'è un robotino La rompo Non lo so Ma come se lo viene Moro Un coglione Occhio eh Aspetta lanciolate le camera Per il coglione Quello scudo Di scudo Lo taggo io Sento trafficare vicino a me Ragazzi qui eh Non c'è ancora nessuno eh Ok Tante sprit Ah Ok Ah stanno sfondando la parete Bravissimo Bravissimo Porca maca Gli ho preso solo il piedino Ma chi sta sparando? Eh non so L'ho spaventato L'ho spaventato Catroia Eh o che gatto eh Scusa Ma dai ma cadi Figa gli ho sparato Gli ho sparato veramente tanto Ah no mi ha ucciso Ash Mi sono là Moro eh Eh no perché il tipo Figa Forse lo sto sparando Di cazzo Ultimo nemico rimatto Non vedo Non vedo Non credo abbia tanta vita Il signore No sono a terra io Uccidi uccidi Non lo faccio a passare Non lo faccio Mi spaventato a braccio Ho sparato Ciao Moro come stai? Grazie sono cieco E morto Guarda lì come è morto Malizio E non vedevo Magari uccidevo pure l'ostaggio Somma Minchia vittoria Troppo forte Chi è che ha fatto il rimontone? Eh? Abbiamo vinto Eh sì Fai il morto Parle Facciamo una coi bot Ma tu fai i bot No Facciamo una Le schiene farei un'altra Eh facciamo una normale Va bene Piuttosto che il bot Dobbiamo finirla entro le 22 Prima fare Tre turni Perché dobbiamo finirla entro le 22 Perché non fare tre turni Perché io faccio sforare il gatto Così Ho messo bene Però voglio giocare bene Quindi adesso Non guardo più la chat Sì Sì C'è il ca Cosa ho detto? Perché? Non la smette? Questo ineducato Ho 40.000 punti esatti esatti Io sono arrivato finalmente a 25.000 Così me ne compro una nuova 40.000 esatti Io ne ho 30.179 Noi sono a 48.440 Eh mica te li prendi tutti e due Eh sì Ma le mappe sono per tutti invece? Sì Sì le mappe sono Fin da subito? Sì 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 No Sì No Sì la mappa credo sì No perché io il 7 volevo fare una live dove li giocavamo Però ce l'ho solo io a quanto pare E mi dispiace un po' No lo puoi usare solo uno E l'usita Semplicemente No vabbè li uso sempre io Quindi il 7 se due vuole di Rainbow Six Cos'è? Presidio Magico Chirurgica Sempre che scano il 7 Non è ancora sicuro Alle gambe di metallo quello lì Ah sì l'ha detto? Sì l'avevano detto sì E di metallo Sono finti Parte Ma gli hazard deve formattare di nuovo Sempre o sempre a formattare deve stare Non è Ma di là ha maggiorato voi Dai Non ho più fatto altro che il medico Anch'io sto Troppo utilizzando cavie Gioco poco Eh sì E gioco solamente in live ormai Ho sbagliato non volevo lanciare questo No perché No non lasciamo il perdito Gliel'zero allontanati Guardate qui lì Qui sopra no c'è il coso Ma qua devo solo barricare? No Ok Entra qui Barricchiello Rolto forlo Il 7 inizia la season Sì 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 Ah merda qua sopra Karim se puoi rinforzare qua dove ho spottato Eh mica è davanti alle finestre porca troia Ma me ne sbatto dalle tue finestre Vabbè aspetto anche qui Anche qui Eh no mi sa che stanno arrivando proprio qua Quanto bene Che ora Che ora vuoi che faccio la level 7? Mi sa Dove Karim è sopra? Sì sono qua Qui Barricchia da boda Magari lo cerchiamo anche noi No Una barricchellata dove la posso da mettere E per me è che voi non ce li avete Beh io li sblocco Ah no Eh no Per quello che ti dico Pigliatelo Ma che cosa ha fatto? No Karim Va bene lo giochi te Fanculo questo qui con lo scudo No bastardo mi spara anche con la pistola Ma va fanculo Arrivo Karim che sono fuori con te Dov'è? Ah Eh guarda che mi ha ucciso Cioè guarda che è incredibile Che merda Dov'è? Oh grazie Tira su Lieza Che Scusa Si è buttato di sotto lui o Mi sa che è caduto Un pezzo di merda Oh che ricadure Ho visto che è mago Ah non c'è che mi so proprio Ah c'è anche Lieza Non so dove siano gli altri due Guarda Canestrelli Hanno affumicato Eh Moro è stato Ah lo vedo È testa in giù Dov'è? Qui giù Ah di là Lo vedo lo vedo Dov'è? Dov'è? È testa in giù qua Adesso non più Cosa scendendo? È sceso Ok È sceso Sì È spaventare che avevano sparato Però sono ancora due Sono Quindi Attention del battaglione Ho c'ho lì Moro eh Che potrebbero sfondare e scendere Non so È un altro Con lo scudo Da Liezar Eh madonna Liezar dove sei? Ah merda di fronte Sotto le scale Ti ucciso Giovanni È destra Liezar È destra Giovanni Scritto così Giovanni 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 Ho sentito urlare Ah non vedo Eh Liezar io non ti posso curare Ve lo taggo ve lo taggo Liezar È vivo È era lì Era lì È proprio lì Eh non so me l'ho cercato Eh porca vacca Dove quanto fastidio danno qui La porca Divertimento giocare con lo scudo Madonna che palle Questo scudo Eh però Funziona Ma è spedizione Perché fai una merda Funziona perché fa schifo Eh ve lo sto taggando Vabbè aspettate che arrivi Eh ma Ne mancano Ne mancano Dos Pan Dos Tre E adez Ale 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 Ma così Però un passito ballante Maria Perché la botola sopra Eh cattolo Eh lo so Quassù Porco cane Non so però ci fosse qui Eh mi sa che arrivano proprio da lì Eh mi sa anche a me Guarda gli spacchiamo una faccia Silenzio Tu puoi silenzio Raccolgo dai mi le pastiglie Allora Che ansia Sfondano Stanno sfondando con il termite Alla sopra Da dove Sono andato un muro sopra per sbaglio Mi sa Era per deflettarci Va bene Faccio scherzone Non traetevi in inganno Chi è che spara Eccolo No Vediva Da dove è? Speriché Ah qua Va bene ormai è troppo tardi Non è mai troppo tardi Ho visto un film Bravo Moro bravissimo Ma va bene Gli attaccanti non hanno preso il colpo Si è successo Missione di difesa riuscita Qui si è dove stavo andando comunque Non ho capito Tre ore con il suo scudo Ma non sapevano dove era la bomba No Mi sa di no eh Sì mi sa di sì All'inizio non l'avevano trovata Non so se parlavano Anche lui che ci ha messo mezzo ad arrivare lì Mi sembra strana che non sapevano Allora mi sa di no Uno due tre Ma stronzi Ma stronzi? Ma strotta? Ma strotta E Gabriele ha appena messo un veto molto particolare alla chat Ma basta immaginare gratuitamente i modi in abiti compromettenti Gratuitamente Gratuitamente Caps E' importante Ah ecco perché Jules ha detto Ma basta immaginare i modi in abiti compromettenti E lui ha detto gratuitamente Sì sì ma no ma Comunque a monte Che cazzo vuol dire in bacio? Sicuramente Molto mod sexy su Patreon Beh ma perché Ma perché si domandava Si Si immaginavano i mod Eh magari io Con il Luciano Cosa? Vabbè Ma perché sono mod O perché sono Gabriele e due signorine? Eh sarà perché ci sono due signorine E perché c'è Gabriele Allora vabbè Potete immaginarvelo quanto volete Basta che non lo scriviate in chat Che insomma Fate brutta figura poi No Pensa se non l'hanno scritto in chat E loro lo sapevano Eh sì Wow Perché gli fischiavano le orecchie Le dita vibravano perché è una roba di chat E' schifo E' schifo Io sono fuori dalla casa E mi sono perso Bravo Ti dico qual è l'edificio giusto Mi hanno sfaccato Tu sicuramente no Sopra Andate sopra Ho trovato uno Mi hanno rotto Mi hanno rotto Mi sono rotto A destra Mi hanno rotto Allora Allora potete rompermi così in fretta Noi sappiamo ciò che pensate Sento Va bene Questa stanza lì Dove sono io allora E allora fiuzzo da sopra Che devo fare Va la Si può fiuzzare No non puoi fiuzzare da sopra Fiuzo qua 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 Ma no lì non c'è nessuno È in grappolo Hai detto tu dove sono io eh Hai detto dove il gatto è lì Qua Ma il gatto s'era spostato Il gatto s'era spostato Ma si si guarda che secondo me non è qui eh Perché il nemico che hai taggato Il nemico che hai taggato era a 50 metri Qua è malapena 20 Un nemico la bomba è lì l'ho vista Ah la bomba Ah va bene va bene E' qui allora qui davanti a me Si Dai Karim fiuzza qui Eh arrivo aspetta vuoi fare il giro Ho visto dell'elettricità qui C'è dell'elettricità qui Si Quindi probabilmente Se uno entra C'è la trappola elettrica Si che la vedo purtroppo tutta buggata Perché esce fuori Vai Sparano L'ho preso uno Va sacro Vabbè è morto è morto Aspetta che rompo lì Ah no È caduto? No sono salito Uno l'ho ucciso Aspetta Fuse un'altra volta Nessuno entri Nessuno entri Ok l'ho rotto Ne ho ferito Moro Io non ero entrato comunque E come hai fatto a prenderti dall'altra parte E ne ho ucciso un altro è vero? È confuso Ed ero alla finestra Ma porca troia Fanculo Difficienti proprio È stato lontano dalla Fuse Sempre lontano È ma era fuori Moro Se c'era un po' di corrente E devo aspettare Ammi Io te l'ho dato Ti avverto solo per tempo Moro? Ma quindi come mai adesso hai iniziato a fare sempre lo smoke? Perché Boh Voglio imparare a usarlo bene Perché poi Porca troia Mi ho ferito Moro? Dobbiamo proteggere Ma che posto diverso Che merda questo posto E niente qui Qui è una villa Abbiamo perso Eh c'è poco da fare Ma non c'è la muro di niente bro E' appunto Che Che Dove è barrico io? Ah qua Enrico Pasquale Barrico Va bene Sono simpatico Per il monse No Chiudo qui che magari dietro un angolo uno si mette Fortificazione del muro in corso Eh un anche qui 10 secondi Mancano 10 secondi Il nemico non ha trovato il portatore Cambio caricatore Ottimo Ma qualcuno non ha giubbino eh Moro entratai la eh Ovvio Eh non so che è stato qua Hanno rotto Lezza da te? Si no ha fatto io No ma Lezza non serve chiudere qui Ah si è uscito? Si ma chiudi Lascia chiuso perchè si Vabbè 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 Si 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 E' passato uno qui davanti Ottimo Moro Sta Moro com'è lì la situa? Che strage è successo? Pfff E' quello con lo scudo qui da me E' quello con lo scudo qui da me Moro stai fermo che ti curo Sì Stai fermo Moro L'ho beccato uno che scendeva Un attimo figa con i miei tempi C'è una qua Porca puttana Dove Nezza? Qui l'ho pagato Vado sono io E' entrato E' montagna Le spalle Montagna Ok Ho colpito un pochino Mi sto facendo il giro continuamente Ok C'era bisogno di uscire Vedi ci sono io? Eh si Vieni andiamo a prendere montagna Vai Aspetta Ho sentito l'ombre eh Aspetta Arrivo io da montagna Poi cazzo è? Ah non c'è una granata lì Oh schio cari Qua Vai Si copro io moro Ah no sopra cari Eh sopra no Aspetta distraerlo di qua che io faccio il giro di là Chi è stronzo? Ah ha potuto interrogarlo Sì Ah 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 Mi ha fatto nulla Ha fatto niente si può prendere Che cazzo hanno fatto questi Quei disastro Ma tonne Eh mi pi.. mi è piaciuto il.. lo stupite che è caduto Vabbè vedi? Oh abbiamo quasi 10 minuti assurre Hai visto? Che è a bitch Hai visto E sono sopra despegati Guarda che schifo di arma c'hai po' con la valigetta 1-2-Switch 1-2-Switch si è sentito un suono? 1-2-Switch ma sto per il raio, domani esce il video di Kona 1-2-Switch allora io vi auguro una buona serata, vi ringrazio per donazioni sub e sub come al solito ringrazio assolutamente i termosifoni e io Tobi, detto anche Antonella Clerici per aver partecipato a questa live non perdetevi domani mattina la guida in cucina nerd con la prova del culo alle ore 10 il panisesto inizia alle 10 poi dopo domani vi dico tutto anche perchè se no è una lista gigante domani mattina qui alle 10 poi da qui vi dico va bene? vi smisto per i vari canali Twitch ciao